Ultime settimane per bonificare quella che era la bomba ecologica alle porte di Bovolone. Al ritmo di una decina di camion al giorno vengono smaltiti i rifiuti speciali rimasti per 12 anni in quella che era una discarica abusiva nella zona industriale di Villa Fontana. Dopo tanto tempo i cancelli del sito si erano riaperti a metà luglio dello scorso anno e da allora ruspe e camion non si sono mai fermati. Qui sono state raccolte circa 15.000 metri cubi di rifiuti che erano stati abbandonati ancora circa 12 anni fa e sono stati portati presso degli impianti di conferimento autorizzati e regolarmente smaltiti. L'operazione insostenibile per il comune è stata possibile grazie al patto stipulato con Amia che è diventata proprietaria dell'area ex fazioni circa 25.000 metri quadrati e del 40% di Bovolone attiva in cambio dello smaltimento e bonifica della zona. Un sogno che i bovolonesi cullavano da tempo temendo che i rifiuti parzialmente bruciati potessero inquinare le falde acquifere. Bovolone ricava di essersi liberata di una bomba ecologica che da anni era ferma lì. Abbiamo bonificato, è stata bonificata attraverso Amia questa zona che verrà comunque rigualificata, verrà messa a disposizione anche di Bovolone attiva sia come uffici che come aree. Oltre alla sede di Bovolone attiva su questa vasta area sorgerà uno dei punti cruciali per le attività di Amia sul territorio veronese.